Ragazzi, 86 esime e 40 secondi e sta finendo l'Handa USA, primo quarto di finale, anzi primo ottavo di finale di questo mondiale che se ne sta andando così è un vero peccato perché sapete che io ho alcune squadre che tifo ma quest'anno mi sto rendendo veramente conto che forse è più di una simpatia che ho per gli Stati Uniti ma è un vero tifo sapete, io tifo gli USA, ma comunque ciao, bentornati a questo novissimo video 87 purtroppo il team USA sta uscendo e questa partita è gli Stati Uniti, è un po' la metafora di tutto il torneo loro e anche delle squadre nordamericane per quanto riguarda perché è anche qua così ragazzi gli Stati Uniti e anche il Canada è stato tutto il tempo così, attenzione qua contro piede Olanda ovviamente è sbilanciata gli Stati Uniti, Berguin, mamma mia che giocatore anche Berguin giocatore molto sottovalutato, peccato che quando si è andato in Premier nella Lega che conta non abbia mai fatto niente Olanda ragazzi che se la sta sbrigando ma comunque non mi ha fatto emozionare cioè quest'Olanda, non mi fa emozionare quest'Olanda, non mi piace a dire il vero devo dire questo non mi piace l'Olanda e li vedo sempre un po' che mi fanno schifo onestamente, qua adesso gli Stati Uniti 3 a 1 stanno cercando di riprenderla ma comunque gli Stati Uniti avrebbe meritato di più, il gol ha rifatto ragazzi, l'ha sempre tantissime palle nella linea ma in tutto sto torneo anche per il Canada, tante palle salvate sulla linea a parte degli avversari gli Stati Uniti che comunque stanno facendo un buon mondiale dopo esser arrivati nel 2018 veramente gli Stati Uniti hanno attuato un progettone per quanto riguarda perché sappiamo, se non lo sapete, nel 2026 ragazzi si disputeranno là i mondiali gli US si chiameranno ragazzi teoricamente United 2026 comunque per non fare gli inglesi United 2026 con Canada, Messico e Stati Uniti la migliore senza alcun dubbio gli Stati Uniti che dopo la delusione mondiale del 2018 dove ragazzi negli ultimi anni gli Stati Uniti avevano già da USA 94, avuto una grande crescita qualificandosi quasi sempre ai mondiali, si sono qualificati nel 2018 e allora hanno deciso di attuare veramente un progettone con una rosa ragazzi che ha un'età media di 25 anni vorrei farci un video o anche un post sul mio blog, su blogger calciopuroblog attenzione qua Berguin, la cosa che più pecca ragazzi è la difesa ma vedremo se nei prossimi anni questi Stati Uniti sapranno fare meglio Matt Turner in porta che oggi ha salvato tutto ragazzi Matt Turner è veramente un ottimo portiere lo conoscevo già quando è passato a DC United se non sbaglio all'Arsenal purtroppo gioca solamente in Europa League ma secondo me merita veramente tanto questo portiere e questo è quello che aveva dirvi poi adesso vediamo qua al novantesimo quanti saranno i minuti di recupero Stati Uniti che cercano in qualche modo di avanzare la sera ragazzi Pulisic che all'inizio gara si è cagato un gol già fatto per quanto riguarda un rigore mettiamola così in movimento con Davanti in portiere ovviamente come tutti i rigori sei minuti di recupero si è assolutamente mangiato un gol che poteva tranquillamente fare l'Olanda invece la sblocca subito con Depay e raddoppia con chi aveva raddoppiato? adesso non mi ricordo ah forse con Delibliand e il terzo gol forse con Berguin non mi ricordo ma comunque questa Olanda che con Depay che ho già giocato decisamente meglio ma comunque l'Olanda che è un'Olanda ma non dico allegriana ma poco ci manca per quanto riguarda è un'Olanda all'allegri cioè come ammettere ragazzi a paragone la Juventus che è una grande squadra contro una squadra piccola come Bolo che fa un bel gioco quale a salire in Italia anche più di tanto il Venezia l'anno scorso che comunque esprimeva un ottimo calcio e il possesso di palla ragazzi ce l'hanno avuto oggi gli USA poi decisamente ragazzi il gap che c'è tra Juve e Venezia dell'anno scorso è quello che c'è tra Olanda e USA è nettamente inferiore è quello tra Olanda e USA ma è una nazionale ragazzi che corre tanto è una nazionale che nei prossimi anni secondo me avrà tanto a dire come ragazzi tante altre asiatiche si avrà sempre ragazzi più un calcio sempre più mondiale io poi ragazzi mi è venuta un'idea pazzesca vorrei provare a farci una serie ma sarebbe ragazzi una cosa folle ovvero il mondiale del mondo vi introduco a questo video voglio fare prossimi giorni un video sull'espansione del mondiale del 2026 il mondiale del mondo ragazzi con 256 squadre 128esimi di finale 64esimi 32esimi 16esimi ottavi quarti semifinale e finale tutti ragazzi gara unica con 256 squadre sarebbe una follia ma sarebbe il mondiale del mondo per quanto riguarda veramente il mondiale con la M maiuscola ma comunque concentriamoci su questa gara dove gli USA ve l'ho detto corrono tanto ma non riescono a concretizzare è quello che più manca e secondo me ciò che manca è una vera punta perché gli Stati Uniti sono una buona squadra anche in attacco ragazzi c'è soprattutto Pulisic e Timothy Weah che sono non sono ragazzi Weah più che altro dovrebbe essere più una punta ma comunque gioca da esterno ci vuole una punta per gli Stati Uniti ovviamente non la puoi comprare perché non siamo al mercato ma comunque vediamo se naturalizzando alcuni giocatori cosa succederà questa Olanda ragazzi che è sempre un'Olanda un po' particolare io l'Olanda negli ultimi anni la vedo una nazionale che la carta è veramente forte però alcuni giocatori in panchina tipo di Elikt che sta entrando adesso al posto di Ake esce anche Gakpo Gakpo ragazzi entra Wegors che comunque è un buon giocatore attualmente sono sbagliato in forza al Burley Wegors che è un ottimo giocatore ma è un'Olanda che come per tutto il girone non esprime un buon calcio esprime un calcio non dico catenaci contro piede ma una squadra alla Van Gaal ragazzi è una squadra a Van Gaal che ti fa anche giocare anche se non sei una squadra tipicamente da bel gioco tipo il Senegal subisce ti fa giocare poi loro ne approfitta e non dico come Spagna e Giappone perché quella è totalmente un'altra cosa ma comunque c'è nel gioco l'Olanda che non è che giochi più di tanto ad esempio qua qua ragazzi veramente ottima difesa da parte di Blind lo stavo ubriacando giocatore degli Stati Uniti poi io Zimmerman forse ma comunque lo stavo ubriacando qua l'Olanda fa il suo punto forte assolutamente la difesa io poi alcune scelte non le capisco Timber che ha alcune cazzate fa anche qua ragazzi cioè veramente io forse sarei più se fossi l'allenatore degli Stati Uniti cambierei modulo adesso il mondiale ormai per loro purtroppo è finito per i miei Stati Uniti ma cambierei modulo metterei assolutamente una cioè aspettate non è che cambierei modulo cambierei interpreti metterei a punta a sinistra Christian Pulisic e a destra Reina che è veramente un giocatore che secondo me non so più che fine abbia fatto teoricamente ancora il Borussia di Dortmund però si è un po' perso negli ultimi anni si è un po' perso prima era il Real e adesso si è un po' perso me lo ricordo già le carriere di FIFA ma mi ricordo ragazzi che era un buon giocatore ma proprio in generale non so su FIFA dove era su FIFA 20 forse un giocatore veramente ottimo per le carriere quando ancora ragazzi facciano le carriere quando FIFA forse ha raggiunto non dico il suo appice ma comunque sì perché negli ultimi anni è veramente calato tanto ragazzi live per un nuovo FIFA voi non conoscete me ragazzi a parte gaming sono sempre stato un grande amante di FIFA giocare a FIFA adesso non ho più live onestamente magari potrei adesso che avrò la PS4 magari potremmo anche fare qualche diretta che ne so magari su su Twitch torniamo in diretta su Twitch oppure sul secondo canale ma comunque torniamo a noi Olanda ho stato qua c'è un fallo di mano evidente però stoppano il tempo non lasciano correre questi arbitri è veramente una cosa incredibile USA che esce dal mondiale ma a buon traguardo avrà già raggiunto gli ottavi di finale non era semplice perché anche quello non era assolutamente semplice Olanda invece che accede ai quarti contro l'Argentina al 99,9% vediamo adesso quando si conclude mancavo 10 secondi veramente inquartabili a volte ma aspetta è la falla di mano degli Stati Uniti ma stai scherzando a me sembrava netto a parte dell'Olanda vediamo qua il 96esimo forse lascia l'ultima azione no neanche perché alla palla arriva Met Turner e allora rinvio dal fondo e Olanda ai quarti di finale l'Olanda che comunque ai mondiali fa sempre molto bene agli europei magari fa anche cacare però ai mondiali di solito fa sempre molto bene accede ai quarti di finale dove probabilmente sfiderà l'Argentina o almeno sfiderà una tra l'Argentina e l'Australia vediamo adesso vedo un Van Gaal sempre come sempre insoddisfatto ma comunque Van Gaal è un allenatore veramente per quanto riguarda idolo gol di Depay Blindedunfres ecco che aveva segnato mentre invece per gli Stati Uniti Wright aveva messo il gol anche se là c'è un pasticcio proprio tra Dunfres e il portiere comunque noi ci vediamo dopo col video dell'Argentina sul secondo canale per i pagelloni ciao